La Sicilia è la prima regione d'Italia ad approvare una legge riguardante la gestione pubblica dell'acqua. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge elaborato dalla Commissione Ambiente. La legge prevede l'inserimento di una garanzia gratuita di un minimo di litri al giorno per le famiglie amorose ed un fondo monetario per aiutare quelle meno abbienti, mentre verrà introdotto uno sconto per l'acqua che non può essere usata in ambito alimentare. Ad affidare la gestione delle reti idriche saranno, come in precedenza agliato, che raggruppano più comuni e che passeranno da 5 a 9 in tutta la regione. Questa è una battaglia dei siciliani perché si sono raccolte tantissime firme per presentare la legge di università popolare. È una vittoria dei consigli comunali, tantissimi consigli comunali siciliani hanno approvato anche loro il disegno di legge. È una vittoria dei sindaci che si sono abbattuti in questi anni per non consegnare una rete e per l'acqua che potesse essere pubblica. Quando diciamo pubblica noi intendiamo dire, perché molto spesso si dice è pubblica l'acqua, non è così. L'acqua deve essere pubblica da dove nasce e dove arriva a casa. Il problema è la sua gestione. Molto spesso nella gestione viene aggravata di spese e anche di guadagno da parte dei privati. Io credo che sull'acqua non ci deve guadagnare nessuno. L'acqua deve essere gestita in modo tale sia le spese siano quelle che servono, che servono per gestire e poi farla arrivare a casa e basta. Questa è la battaglia che abbiamo fatto. Ora c'è la gestione della legge. Io credo che il Parlamento siciliano approvando questa legge, fratto la prima legge delle stesse popolari che viene presentata e che viene approvata dal Parlamento siciliano abbia capito che i siciliani su questo ci tenevano e ha risposto per la prima volta alla classe politica al bisogno, alla necessità, alla capacità e alla forza della battaglia politica fatta dai siciliani.